Ristretto italiano, i media internazionali scrivono di noi. Buongiorno a tutti, sono più di una le notizie per le quali oggi si scrive dell'Italia da parte dei giornali internazionali, ma una più di tutte, ed è quella che riguarda gli euro, gli europei di calcio del 2032, per il quale, come titola BBC Sport, Turchia e Italia uniscono le gare. Insomma, la notizia ieri era su tutti, tutti i giornali turchi, non uno di meno, ma anche sui maggiori giornali internazionali. Insomma, rimaste solo sulla piazza, visto che la Russia è ormai fuori gioco, Roma e Ancara proporranno di condividere oneri ed onori degli europei di calcio, che arriveranno fra nove anni. La decisione sulla candidatura congiunta è stata presa nei giorni scorsi a Roma, tra il presidente della Federcalcio, Gravina, e il suo omologo, Buju Kekski. Gravina ha anche detto, siamo di fronte a una svolta storica che punta a valorizzare il calcio continentale. Il calcio è un ponte per unire. Cambiando argomento, qui c'è il PNRR che è croce e delizia un po' di tutti, non solo di noi italiani, e il giornale finanziario Investor dalla Bulgaria titola L'Italia sta cercando di superare l'arretrato del recovery plan e lo scrive dalla Bulgaria di noi perché anche loro stanno comunque cercando di fare più o meno le stesse cose avendo più o meno gli stessi problemi. Comunque, questo articolo bulgaro è basato su un lancio d'agenzia di Reuters e dimostra come l'intoppo che abbiamo incontrato sul piano dei finanziamenti post-pandemia non sia sfuggito nemmeno ai confini dell'Unione. Scrive quindi il giornale economico di Sofia che, per evitare di perdere lo slot attuale dei finanziamenti e anche di quelli che seguiranno, il governo italiano ha deciso di sostituire ai progetti che difficilmente riusciranno a essere finalizzati nei tempi dati, a rispettare dei tempi che sono molto stretti, verranno sostituiti con altri di più immediata realizzazione. E con una prima parte dei 16 miliardi che cambieranno così destinazione d'uso, verranno potenziate le reti elettriche e del gas di tutto il Paese. E anche il rimanente andrà tutto più o meno comunque per la transizione verde e l'efficientazione energetica. E l'articolo bulgaro, come vi diceva, si conclude con la notizia che anche loro, i bulgari, si apprestano a rinegoziare il loro recovery plan con Bruxelles. E poi si continua a parlare dell'Italia per quanto riguarda i danni provocati al nord dai temporali incredibili e al sud dagli incendi ancora più drammatici. E scrivono i giornali belgi, quasi tutte le testate belghe, riferiscono che per molti turisti che dal Belgio sono venuti in Italia in automobile, visto anche che per loro siamo abbastanza a portata di mano, le vacanze di quest'anno si sono trasformate in un incubo infernale. E' Newsblad in particolare, che riferisce che in Italia Carglass non ha parabrezza a sufficienza per sostituire tutti quelli che sono stati rotti dalla grandinata dei giorni scorsi, col risultato che decine di migliaia, stanno dicendo migliaia invece, decine di migliaia di auto sono ferme. E solo martedì Carglass ha ricevuto 10.000 chiamate in più dalla media. Naturalmente i turisti belgi stanno chiamando anche Carglass del Belgio perché qui in Italia, più o meno comprensibilmente, non so quanto giustamente, i carrozzieri quando possono accontentano per primi i loro clienti e i turisti che hanno anche difficoltà con la lingua, magari restano ad aspettare. E quindi, torno a Newsblad dal Belgio, i tempi d'attesa sono ottimisticamente tra gli 11 e 20 giorni con gli addetti del settore che si sono visti cancellare tutte le vacanze. 11-20 giorni, dicevo, di attesa che però per dei turisti fuori casa, specie se stranieri, sono difficilmente gestibili. Le stanze d'albergo, gli appartamenti scadono, ci sono altri che devono entrare, altri sono già tutti esauriti perché andiamo a piedi pari dentro il ferragosto e non ci sono mezzi alternativi per tornare a casa lasciando oltretutto l'auto in deposito qui in Italia. Leggo anche che un paio di autobus sono già partiti ieri dal Belgio per riportare in patria chi non può comunque più rimanere in Italia e altri nel caso seguiranno. Ora, la cronaca italiana e l'Humanité da Parigi titola Il municipio vieta il banchetto antifascista. Sapete cosa sono i banchetti antifascisti? Le pastasciutte antifasciste che vengono ormai organizzate da alcuni anni, soprattutto dall'Ampi, nelle maggiori città italiane per ricordare, celebrare il 25 luglio del 1943, quello di 80 anni fa che segnò la caduta del fascismo. Per quanto riguarda il titolo dell'Humanité accade a Rosà nel Vicentino. Per Elena Mezzalira, la tradizionale che è la sindaca, per Elena Mezzalira la tradizionale pasta asciutta per celebrare la caduta del fascismo potrebbe creare disordini pubblici naturalmente in sorge frato i anni che si appella al prefetto di Vicenza affinché spieghi a questa rappresentante della destra estrema che cosa scrive la Costituzione italiana sulla ricostituzione del partito nazionale fascista. E cita sempre l'Humanité nel vicino comune di Porto Burci i partecipanti alla pastasciutta antifascista che lì si è fatta sono stati accolti da uno striscione provocatorio sul quale con i caratteri tipografici tipici del ventennio stava scritto se manca l'olio lo portiamo noi ed è inutile che io vi ricordi che il riferimento è all'olio di ricino. Come vi dicevo le passasciutte antifasciste come spiega la testata parigina si sono moltiplicate in Italia negli ultimi anni il ricordo del grande banchetto che papà Cerbi offrì all'intero paese di Campegine, Reggio Emilia la notte che cadde Mussolini una data del 25 luglio che però segnò d'altra parte l'inizio di un'altra lunga stagione di dolore durante la quale i fascisti uccisero nel dicembre successivo i sette fratelli della stessa famiglia. Vado in Germania parlo di cose più gradevoli diciamo parlo dell'incidente diplomatico del first gentleman italiano che si lamenta di Lauterbach e Bild il famoso rotocalco tedesco che parla di Andrea Giambruno in Meloni tanto per intenderci che nel suo programma televisivo su Rete 4 commentando l'uscita effettivamente infilice del ministro della sanità tedesco sul caldo italiano ha risposto se non ti va bene così tornate nella foresta nera nessun commento da parte della testata tedesca sull'esternazione nessuna difesa del loro ministro e per una volta insomma sembra che l'incidente diplomatico sia scongiurato non pervenuta nemmeno la reazione di Giorgia che in quel frangente si trovava alla Casa Bianca resto su Bild Germania un altro titolo vacanze italiane con ex e x è un articolo che non vi citerei se non fosse per questo gioco di parole che mi ha divertito nel titolo vacanze italiane con ex e x perché lui forse qualcuno ha già capito è Elon Musk che è in vacanza a Portofino insomma questa è la stagione in cui i paparazzi si scatenano e a Portofino Elon Musk si è portato la sua ex che è la musicista Grimes e il loro bebè che hanno chiamato X e poi c'è ancora chi fa eronia sui totti e sul nome Chanel concludo con un sito egiziano El Akbar che dal Cairo titola scopri gli errori più comuni quando viaggi in Italia è un tipo di vademecum sul quale mi soffermo spesso in ristretto italiano ma paese che vai consigli che trovi e questi consigli che vengono dati a chi dall'Egitto può prendersi le vacanze sono parecchio diversi da quelli che per esempio vengono dati dai siti statunitensi e in Egitto dove tutti o almeno quelli che si possono permettere di viaggiare vivono in ambienti climatizzati il primo consiglio è quello di considerare facendo le valigie che non solo nelle strade ma anche nei locali italiani può fare veramente molto caldo quindi vestirsi adeguatamente soprattutto se si parte per le città d'arte e considerare anche che nonostante i picchi di calore estivi l'Italia conserva un'alternanza di stagioni con periodi temperati e altri anche freddi quindi per dire ferragosto non è il periodo maggiormente indicato per andare a Roma a Firenze a Torino a Milano sull'abbigliamento ricordare sempre il dress code per entrare in chiesa ma questo soprattutto per gli egiziani di fede musulmana non dovrebbe essere un problema alcuni consigli poi culinari assaggiare la pizza sì ci mancherebbe ma tenere pranzi o cene anche per tante altre specialità della cucina italiana che sarebbe un peccato farsi sfuggire consigliato poi portare con tanti perché noi italiani non siamo poi così avanti come l'Europa che ci prende nella sua unione e non abbiate paura consiglia il sito egiziano agli arabi non abbiate paura a mercanteggiare anche se in Italia non ci sono i suc si può tirare sul prezzo e noi scrive l'articolo cioè loro ci sappiamo fare sul mercanteggiamento come se non lo sapessimo attenzione ancora per finire che in Italia paese delle radici cristiane la domenica è un giorno festivo e in molte occasioni potreste trovare chiuso consigliato infine se avete un itinerario ben scadenzato di procurarvi i biglietti in anticipo rischiereste di perdere delle opportunità con questo vi saluto vi aspetto dopo domani lunedì e vi auguro un ottimo weekend ristretto italiano di Ruggia Aeropo